Get ready with me per Natale. E senza dubbio il periodo dell'anno che preferisco per decorare la mia casa. Le nuove candele firmate Yankee Candle si adattano perfettamente al mio arredamento creando un'atmosfera incantevole. Note di pera, menta, gelsomino e vaniglia che mi trasportano in un sogno invernale. Personalmente niente mi sembra più natalizio di una Yankee Candle. Vai su yankeecandle.it prima che finiscano.